ehi ciao 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 a tutti e tutti 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 e tutti 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 sei la prima prima primissima primissima che guardi che guardi uno uno dei miei video mi presento io sono vero wild ah ah s s m r r come stai? bene mi fa molto piacere ho sentito dire vero? che hai bisogno di una sistematina i capelli è vero? è vero? certo lo so benissimo che ti piace essere pettinata pettinato certo ho un sacco di spazzole quindi le proveremo tutte ma assolutamente assolutamente hai bisogno di una spuntatina si va bene io di solito taglio sempre o quasi sempre i capelli a ciammi quindi sono me la cavo perfetto va bene iniziamo mettiti comodo dove qua va bene ok allora siediti 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 e lasciati rilassare coccolare da me sei in buone mani allora ora ora inizio a pettinarti però ho come vedi tre spazzole diverse e scegli pure tu le usiamo tutte tre certo quella di legno o quella di plastica o questa guarda te la faccio vedere ha dei dentini molto molto fini ok usarebbe prima questa va bene non c'è problema allora io inizio a pettinarti allora io inizio a pettinarti di fianco non hai molti nodi eh benissimo è rilassante vero io amo essere pettinata per me è proprio rilassante 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 anche qua sì sì certo davanti hai dei bellissimi capelli scusa se ci sono un po' di miei capelli in giro ma queste sono le spazzole che uso che è meglio mi pi mi pi 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 e anche di tiro verso di me ma dimmi se ti fatto del male hai dei capelli morbidissimi anche qua davanti hai un po' di nodi giusto qua perfetto ora girati che facciamo la parte della fronte perfetto sei uno splendore te li sistemo un po' con le mani vuoi cambiare spazzola? però sono proprio belli usiamo quella di legno puoi usare quella di legno? non c'è problema un attimo che la prendo eccola qua questo ha un po' più di spazio quindi dovrebbe essere un po' più delicata vero? davanti si si girati pure iniziamo da dietro ecco è perfetto mi tiro verso di me verso di me verso di me verso di me questa parte questa parte questa parte dico ma comunque ti sono cresciuti dall'ultima volta che li abbiamo pettinati insieme si mi ricordo qualche mezza fa però li tieni sempre molto bene usi qualche prodotto particolare quindi sei molto fortunata fortunata guarda questa parte riesco a togliere i nodi che prima con quella piccolina non sono riuscita a togliere anche di qua anche di qua perfetto come te li senti? si si ti puoi guardare lì allo specchio se vuoi bene sì si si dopo vediamo lì davanti non c'è problema si sono incastrati i miei di capelli oggi come video ho questo effetto bagnato ho messo ho messo un po' di spuma sto bene? ma si dai è un po' un look un look pazzarello un attimo che lo passiamo anche qua si è giusto un po' con le mani questa parte questa parte va un attimo aggiustata tutto va bene? va bene va bene? te li si stiamo ok? davanti e un po' dietro ok? li vuoi un pochettino scalati non c'è problema faccio del mio meglio allora andiamo ad usare questa spazzola perché riesco ad essere un po' più precisa allora ti aggiusto qua davanti allora taglio poco 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 per volta e poi ti faccio vedere così mi fai sapere se va bene perché io quando vado dal parrucchiere sono sempre così acidata che mi tagliano un pezzettone quindi io te ne taglio poco poco per volta e poi ti faccio vedere se non va bene poi accorciamo tutto ok? allora vieni anche sì sì vieni più vicino ok parto da qui perfetto ok 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 quella di pure un pelo di più un pelo di più un pelo di più non c'è problema sì uso la parte sopra per non tagliarli diciamo in modo netto che 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 nel ora puami vedere, per me dovrebbe andare bene guardati ancora una volta ancora più corti ah giusto di là un po' ok vieni ti aggiusto questo angolino ok provo a guardarti perfetto ok ora girati giusto sfoltirli va bene non c'è problema 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 ok non c'è problema ok ora faccio un attimo la parte qua sotto non ti preoccupare, non ti preoccupare ma guarda sono abbastanza forti anche qua sotto sono proprio delle capelli ok girati ancora una volta ti sistemo un attimo la scalatura ok forse un po' più di qua allora li vuoi scalati dall'alto un po' più ok dall'alto perfetto la riga la vuoi da questa parte? vediamo che da questa parte ok sotto che te la rifaccio ok perfetto allora un ottimo per me è a posto guardati pure a posto ok lo sapevo lo sapevo vieni ecco ok ci siamo ok ok ti do l'ultima spazzolata per vedere come è venuto un po' questo accorgiamento usiamo l'ultima spazzola allora ti faccio qua davanti e ora ti spazzolo bene dietro ho i capelli abbastanza lunghi eh quasi come i miei non li vuoi tagliare mai nemmeno io però ti sei fidato fidata di me sono molto contenta oh sono bellissimi secondo me abbiamo finito a ti stai per attormentare benissimo o se vuoi chiudi gli occhia non c'è nessun problema non c'è nessun problema ok vuoi qualche cremina? no 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 nemmeno un po' di lacca? no 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 guarda guarda anche io quando vado dal parrucchiere alla fine mi vogliono mettere tutti quei prodotti che mi impiastricciano i capelli dico sempre di no quindi ti capisco bene adesso che hai questa sensazione di relax vuoi benissimo addormentarti e pensare a qualcosa di positivo ti ringrazio per essere stato con me stata con me e passa più spesso lo sai che mi piace cocolarti? buona notte buon relax buona giornata ciao 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 buonaGU buona giornata buona giornata Grazie.